Maria ringraziata, l'ambasciata, l'associazione amici di Capodimonte e l'istituto Servante, se poi tutti i presenti qui. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti, io voglio ringraziare innanzitutto a Linda Martino e a Marina Santuzzi al museo di Capodimonte per questa occasione, questa occasione ricchissima per noi che ci offrite di comunicare a voi, di darvi conoscenza di questi legami tra la Spagna e Napoli attraverso i più importanti specialisti, esperti e storico dell'arte del del nostro paese, come oggi con la presenza di Luis Vibod, che inaugura i secondi incontri a Capodimonte che presentarà Giovanni Mudo. Grazie a tutti, già dell'anno scorso devo ringraziare a Augusto de Lussendere, il presidente di Amici di Capodimonte per la sua collaborazione, a Marina che già l'ho detto ma è sempre un lavoro costante con noi e a tutti voi perché voi siete per noi l'istituto Servante come istituto di cultura e lingua spagnola nella città, tutti voi siete il nostro pubblico più importante, i giovani, la gente che farà l'Europa come parlavamo prima con Martina, del professor Ribod, che farete questa Europa, che...